Ha perso la vita questa mattina all'aeroporto dei Parchi di Preturo il copilota dell'elisoccorso del 118 Paolo Dal Pozzo, di 41 anni, originario di Acquitermi, Alessandria, ma residente in Toscana. All'Aquila si era trasferito per lavoro, ma era solo il secondo e terzo giorno che svolgeva l'aeroporto come servizio. È stato investito da una cisterna, un'autobotte di quelle usate per rifornire veicoli. Stava sistemando l'area, secondo le prime ricostruzioni dei fatti, ed era autorizzato a stare in quel posto, ma con ogni probabilità, era in un angolo cieco nel quale non c'era visibilità dagli specchietti del mezzo. È stato colpito alla testa da una ruota e per lui non c'è stato nulla da fare. Immediatamente è stata sospesa la manifestazione Airshow in programma all'aeroporto, che avrebbe visto di lì a poco le prove della pattuglia acrobatica delle frecce tricolori prima dell'esibizione di domani. Tutto è accaduto poco prima di mezzogiorno. I visitatori sono stati fatti defluire dagli operatori della protezione civile. La notizia si è sparsa subito. Sul posto, oltre all'elisoccorso già presente, sono arrivate diverse ambulanze, le forze dell'ordine e il magistrato di turno per tutti i rilievi del caso. Le indagini sono portate avanti dalla polizia. Purtroppo sembra incombere una maledizione sulle frecce tricolori, ma anche sul 118. L'anno scorso l'esibizione fu annullata per la morte di un capitano dell'aeronautica. Quest'anno questo incidente ha falcidiare quella che sarebbe dovuta essere una giornata di festa per tutti, ma anche l'elisoccorso stesso fu protagonista del drammatico incidente a Campo Felice qualche anno fa, costato la vita a tutto l'equipaggio e all'uomo soccorso in montagna. Dal pozzo era stato ufficiale della marina, sposato con due figli piccoli, era persona esperta, amante del suo lavoro e stimata dai colleghi. Era dipendente della società Abincis, la società affidatare del servizio di elisoccorso. Il responsabile del 118, Gino Bianchi, ha espresso subito il suo cordoglio. Anche il sindaco Pierluigi Biondi, il senatore Liris, il consigliere comunale con delega le attività dell'aeroporto Livio Vittorini, che peraltro era lì quando è successo l'incidente. Si sono trattenuti molto in aeroporto durante la giornata, tra l'incredulità e lo sgomento dei tanti visitatori presenti in aeroporto. Cordoglio è stato espresso anche dal presidente della regione, Marco Marsilio, e dai vertici del Corpo Nazionale Soccorso Alpine e Speleologico d'Abruzzo.